Bene, iniziamo il primo talk di questa Ghost Edition, vi vedo numerosi, sono felice. Di cosa parliamo mai? Avrete intuito, quindi parliamo di W3, di blockchain, di smart contract, magari vediamo di farlo nel modo canonico, in cui uno spiega cos'è e poi dopo 5 minuti si annoia, almeno ci proviamo, quindi inizierei subito con chi sono io, la cosa bella è che sono così maturo che su LinkedIn basta fare slash n e il cognome e esco fuori io, quindi questo vi dà già un indizio sull'età, potremmo fare un concorso anche su questo come i puntini della maglietta, quindi cosa faccio nella vita? Faccio il risk manager, mi piace questa vibrazione che è stata settata dal tecnico, cosa fa il risk manager? Verosimilmente valuta i rischi, sei bravo, li calcola e nello specifico io mi occupo degli strumenti finanziari, quindi sono in quel ramo. Faccio anche questa, per carità, la mia professione, sono anche altro, sono il founder dei startup grind Monza, quindi ci divertiamo con le startup, fondamentalmente sono un nerd, altrimenti non sarei qui con voi. Quindi, come detto, di cosa parliamo? Di blockchain e transazioni? Poco, perché già ne sapete tanto voi, o perché comunque chiunque può è a insegnarvelo, ci sono milioni di video su YouTube. Andiamo a capire cosa sono gli smart contract, parliamo un po' di hacking e l'ultima parte è quella che forse... Perfetto. Perché parleremo delle best practice di codice, degli smart contract, che è, essendo una pratica relativamente recente, è qualcosa di cui si parla sempre poco, quindi vorrei dare là nulla, vorrei dare i miei due sense sull'argomento. Quindi abbiamo detto blockchain sì, quindi se la relazione è odio che palle, vediamo di farlo in fretta. Blockchain, catena di blocchi, uno si attacca all'altro, a me viene sempre in mente l'ego, che è l'esempio più pratico, quindi ogni blocco ha senso se si incastra nell'alto. A differenza dell'ego, l'hash è qui, è sempre diverso. Vi risparmio Satoshi Nakamoto, come è nata, perché la storia di dove lui adesso... C'è un libro che dice che è criogenato in attesa di ritornare in vita per guarire da una malattia che adesso non è curabile con un tot di bitcoin, vi risparmio tutto, è molto bella però, molto romanzata. Quindi è ovvio che dentro ogni blocco di questa grandissima blockchain ci sono tanti dati, più di quelli che immaginiamo, più degli indirizzi del wallet di partenza e di arrivo, più della quantità. Tutti questi dati, questi valori, sono storati in qualcosa che si chiama Merkle Tree, nello specifico è un Patricia Merkle Tree, con l'algoritmo che è CAC256, ma non ci interessa. Cosa è un Merkle Tree? Sono arbei binari che hanno senso, quello al basso verso l'alto, e che vediamo qui, questa mi fa sempre spaventare perché di solito uno dice oddio. Quindi è facile ricordare perché sono 3 Merkle Tree, quindi abbiamo il Wall State, che è quello più importante per noi, il Receipt e il Transaction. Tutto questo per dire dove sta lo smart contract, è una cosa che mi sono chiesto per diverso tempo, e sta nel primo, nel Wall State, che fa il MAC tra indirizzi e relativi valori, quindi abbiamo il non-sbalance, lo storage root, eccolo lì, lo smart contract è lì, il Receipt è l'outcome, e quando usciamo dal bar abbiamo la ricevuta, il Transaction Tree, altro non è che quello relativo alle transazioni. È stato studiato meravigliosamente questo sistema di blockchain, perché il Merkle Tree permettono di identificare univocamente e molto velocemente qualsiasi tipo di transazione su tutti i nodi che abbiamo. Vengono salvati in locale da ogni nodo del DB, quindi non li troviamo sulla blockchain, questi tree di cui parlo. Allora, anche qui vi risparmio la differenza tra Ethereum e Bitcoin, finanziariamente il Bitcoin spesso lo vedono come l'oro, che è un modo carino per dire che non serve a niente, e lì è fluttua, ha la sua valorizzazione, quindi vale 60.000, no oddio vale 30.000 di mezzato, sì ma valeva 2 dollari, infine, quindi siamo fuori da tutto questo, quindi se vi dico che il Bitcoin è l'oro, l'Ethereum è qualcosa che può essere utilizzato per fare qualcos'altro, nello specifico parliamo di smart contract, parliamo di DAO, parliamo di tutto quello che è decentralizzato, perché è su questa fantastica rete, su questo fantastico sistema deterministico a stati. quindi, di cosa parliamo mai? Tutta questa rete si tiene su grazie al gas, il gas sono le commissioni che si pagano ogni singola transazione e che vanno ai miners, più o meno avete sentito qualsiasi di questa parola, quindi non vado a dentro, questo è un periodo molto critico, perché stiamo passando dalla proof of work alla proof of stake, come molti sapranno, quindi la prima cosa che ci viene da dire da bravi nerd è che il prezzo delle schede grafiche diminuisce di mezza, caspita, perché finalmente possiamo tornare a giocare con i nostri 3D senza pagare miliardi e senza vederli uscire dagli scaffali, diciamo che tenere sotto controllo il prezzo ci fa anche capire che è sempre più vicino, doveva essere 15 settembre la data fatidica di passaggio alla proof of stake, in cui non c'è più il miners che ti calcola l'equazione alla 2 alla 128esima e deve essere il primo e più veloce, quindi ha bisogno della G-Force di ultima generazione, finalmente no, si passa a qualcosa di più green, di più verde, è fattibile di critiche ma non ne parliamo, in realtà tu devi mettere sul piatto degli Ethereum, garantirli e se la transazione va ti prendi gli Ethereum più la fee, se no ti riprendi gli Ethereum e basta, più o meno a proof of stake, scusate la spiegazione ma la glissiamo così, quindi tutto si regge sul gas, su qualcuno che ha interesse a far concludere tutte le transazioni, a far passare quindi gli stati, in questa fantastica Ethereum virtual machine, Ethereum virtual machine che per mesi io non riuscivo a vedere, o meglio non riuscivo a interagirci, questa cosa mi faceva arrabbiare, perché se io vedo il server di Redder e vado lì e lo vedo, pulsa, mi dà soddisfazione, e l'Ethero virtual machine non la vedo, e questo mi ha sempre fatto alterare, poi un modo per interagire con l'Ethero virtual machine, così come un pochino con l'aldilà l'abbiamo trovato, lo vediamo dopo. Quindi mi dà fastidio chi si mette qui e vi dice, Ethereum è una catena di stati in cui ogni nono cerca di vela risparmio, ne abbiamo parlato più o meno, a noi interessa il vostro tree, semplicemente perché dentro ci sono strati di smart contract, quindi la vediamo, una cosa molto simile a Java, e infatti vedete che l'algoritmo che utilizzeremo sarà proprio quello, e quindi parliamo degli smart contract, ha iniziato quegli smart contract, ci parli di blockchain, la sappiamo già. Il 95% degli smart contract è scritto in Solidity, che è un linguaggio ad alto livello a oggetti, queste sono le sue variabili, e non c'è nulla di poderoso, non è nulla di particolare, certamente come le metto insieme, allora determina la riuscita o meno del mio smart contract. Per la cronaca il 5% degli smart contract sono scritti in assembly in realtà, li ho visti molto, mi aspetto qualche casino su questi onestamente, però va bene, non ne parliamo. Parliamo invece di, finalmente vediamo cos'è uno smart contract, è fatto così, adesso scusate, una mano sola, ma ci riusciamo lo stesso credo, quindi se io esco e torno qui, facciamo che mi apro ad esempio Remix, nel mentre posso dirvi che se siamo sul Web3, siamo su qualcosa di decentralizzato, no vabbè, vado con una mano sola, faccio tante cose con una mano sola, quindi vi faccio vedere quello che, questo è nulla di particolare, questo è il contract dell'ESC 2022, e non si vede, ottimo, aspetta, facciamo un intervento tecnico, aspettate, adesso vedete solo me? Sì? Allora, facciamo duplica, ecco, anni, anni di, di studi Microsoft, per arrivare a questo, allora siamo tornati su Remix, scusate, e quindi vi dicevo, avrete intuito che quindi, se siamo sul Web3, non abbiamo più il compilatore, c'è gente che lo fa, è tutto, sono tutte applicazioni online, per questo io adesso sono su Remix, o Remix, a come dir si voglia, questo in realtà è molto utile, questo è semplicissimo, io non ho fatto altro che inizializzare, è una variabile, e dirvi, guardate che se io scrivo qualunque cosa, sulla blockchain, io pago, se invece io interrogo, e ci sono tanti servizi che lo fanno, la blockchain è gratis, adesso non faccio similitudini nel mondo reale, quindi se io voglio mangiare qualcosa, pago, se io voglio guardarlo alla vetrina, se io vado a McDonald's, posso vedermi, l'hamburger gratis, lo compiliamo, e quindi in realtà, io adesso l'ho deployato, è sulla blockchain, eccetera, eccetera, sicuramente è sempre qualcosa di astratto, ma adesso vediamo di andarci più nello specifico, adesso se io faccio così, si vedrà, spero, sì, benissimo, allora, la differenza tra il vostro account, sul wallet, e quindi privato, come vedete dalla chiave, è il fatto di avere, voi avete il vostro wallet, con dentro 0,2 Ethereum, perché non potete permettervi di più, e con le vostre paroline segrete, a destra vedete lo smart contract, lo smart contract è identico, se lo guardate da fuori, è identico, avrà sempre i 40 caratteri esadecimali, ma, ovviamente ha qualcosa di diverso, ha dentro il codice, abbiamo visto dov'è, e ha un'altra caratteristica, che non viene eseguito, il continuo come un demone sulla blockchain, ma è deployato, parte, da un indirizzo privato, è sempre eseguito, da un indirizzo privato, e questo è importante, per capire, come funziona il tutto, allora, qui vedete tanti bellissimi simboli, abbiamo uniswap, che è un exchange, abbiamo, chi conosce quello con la bandierina, vince una birra, niente, niente, dove comprate i token, va bene, benissimo, l'ha vinta lui, OpenSea, cosa hanno in comune, niente, sono, ovviamente, sono, tutti, tutte porte verso la blockchain, e hanno in comune il fatto, che sono tutte, sottostanti, hanno dei smart contract, è come se interagissi, io, con, dei bot, meravigliosi, ed è molto meglio, che, ad esempio, interagire con Tobi, della Vodafone, che non capisce niente, e in questo caso, gli smart contract qualcosa fanno, quello sotto, di solito, mi dicono, è Firefox, e li perdono, e voi sapete che non lo è, e quindi, questo è un bridge, verso la blockchain, e Metamask, quindi, andiamo veloci, differenza tra voi due e tre, ve la guardate, l'infografica, dovevo metterla, per default, avete capito, due cose, primo, che il frontend e il backend, sono, sulla rete, non sono su un server, secondo, praticamente, tutto è pubblico, e poi vedremo che, possiamo anche togliere l'avverbio, è tutto pubblico, poi il resto, vabbè, la intelligenza artificiale, ve la rispargo, questo l'ho messo, perché, mi hanno sghibellato molto, ci sono, adesso c'è un, un'onda di pensiero, che vuole mettere, le DAO ovunque, anche in associazioni come queste, ad esempio, no, facciamo la DAO, questo è un esempio, di come funziona, è giusto per farvi capire, che in realtà stiamo andando a interrogare, dei nodi sulla blockchain, in javascript, noi stiamo facendo questo, ogni volta che c'è una DAO e un voto, tutti vogliono mettere in piedi, poi non c'è la legislazione, quindi non si può fare niente, noi stiamo facendo questo, noi stiamo tornando qui, per dirvi, esiste quindi, è tangibile, non viene fuori dal nulla, e questa è la magia, allora, io vengo da, ve l'ho detto, ho un taglio finanziario, e quindi mi interrogo sempre, di quanto stiamo parlando, quindi questo è di cosa, adesso lasciate stare questo, perché, diciamo online, trovate di tutto, mi focalizzerei nel dirvi, che la normativa elvetica, che è sempre molto pragmatica, distingue utility token, che sono quelli con cui ci fai qualcosa, che potrebbe essere la casa, l'assicurazione, i token di pagamento, sono le crypto, e gli asset-backed token, sono tutto ciò, che richiama, la finanza tradizionale, nel mio caso, mi piacciono molto, i buon token, ma può essere i security, le azioni, possono essere derivati, qualunque cosa, quindi, fondamentalmente queste tre, quindi, abbiamo questa bellissima, fonte autorevole, che è EU Finance, non so se esiste ancora, e però, prende da Twitter, e che ci dice, il 25% di tutti gli Ethereum, sono negli smart contracts, fantastico, conti della serva, questo l'ho fatto un po' di tempo fa, è un po' ballerino l'Ethereum, è a 200 miliardi, 200 diviso 4, 50 miliardi qui, stiamo parlando di 50 miliardi adesso, giusto per capire, poi, ci sono altre considerazioni, c'è il Frankfurt School of Management, di solito uno cita fonti altisonanti, per essere più credibile, che più o meno è arrivata a 55, probabilmente l'ho fatto 200 diviso 4, però in un'università fa più figo, io me ne sono accorto, guardando l'istogramma, che vedete cerchiato, quindi guardando gli scambi semplicemente, quando c'è una fluttuazione costante, e palese, mi sembra chiaro che il trend sia di crescita, quindi security token, stiamo parlando, questa dell'anno scorso, me ne sono accorto, ma caspita erano 50 milioni, adesso tradiamo 700, erano 100, adesso più di 700, eccetera, eccetera, quindi è inutile che vi faccia vedere questo, che è una previsione, e quindi, di quanto stiamo parlando, approssimativamente, tra il 2023 e il 2024, stiamo parlando di una cifra, tra i 150 e i 300 miliardi, che gira attorno a tutto questo, e diciamo, capite, ecco, benissimo, e quindi da qui inizio a incuriosirmi, a vedere, questa non mi piaceva molto la grafica, in realtà, nulla di che, quindi, i 6 milioni pagati all'Uaitet, che ha trovato qualcosa, ci sembrano tanti, ma sono noccioline, il Uaitet, invece, che ha salvato SushiSwap, da una possibile falla, 350 milioni, invece, è più bravo, se vogliamo misurarli, in termini di moneta, e quindi, è ovvio, è ovvio che questi smart contract, iniziano a fare gola, perché si parla di soldi, perché girano i soldi, e possono essere indirizzati, a nostro piacimento, se troviamo qualcosa, una falla, un exploit, quindi, iniziano i problemi, adesso non parliamo, dell'hacker brutto, che ti scrive lo smart contract, per svuotarti il wallet, parliamo di chi non li sa scrivere, quindi, più di un milione di dollari, permanentemente bloccati, in uno smart contract, della finanza decentralizzata, e io dico, ma cacca, aspetta, un milione, è tanto, e poi vado oltre, e allora, c'è qualcuno, che non c'è un NFT, ops, guarda che abbiamo scritto il codice, abbiamo fatto una cappella, sono 34 milioni, che sono bloccati lì, ops, ma è ovvio, ma deriva dalla cifra, che ho detto prima, perché sono, se sono, è vero che sono 50 miliardi, non possono essere 6 mila euro, quindi, è giusto per darvi l'idea, che vedere questi titoli, non dico che sia normale, ma faccia capire, che probabilmente il fenomeno è del mio attenzione, adesso non so che ore siano, è già tardi, quindi vi faccio vedere, RECT, eccolo qui, che mi piace tantissimo, questi sono tutti gli exploit, sono tutti i danni, fatti da codici, scritti male o malevoli, quindi vedete, Ronin Network è un circuito di gaming, 600 milioni spariti, come vedete, spesso sono on audit, sono non auditati, tutti questi smart contract, alcuni lo sono, eppure hanno delle falle lo stesso, a me piaceva molto Alpha Finance, che è quella qua, scritto poi in tipo romanzo noir, quindi potete andarvelo a vedere, ma torniamo qui, spero lo vediate, allora facciamo così, andiamo avanti veloci, quindi parliamo dell'hacking, c'è una cosa che mi ha sempre fatto impazzire, sembra una cagata, ma mi terrorizzava, quando ho iniziato questo percorso, vedete, quello è un bonifico scritto tutto a zero, se voi andate sulla vostra app bancaria, o allo sportello per i più anziani, con questo, magari tentano anche di inserirlo, e dicono no, è sbagliato, no, è sbagliato, cioè è evidente, non possono andare soldi lì, non possono, perché, con bonifico ormai siamo 40 anni, che lo utilizziamo, ci sono dei piccoli sistemi di controllo, quindi, questo è qualcosa di che, è parzialmente vero, poi sta in qua, quindi ve la metto qui, c'è questo che mi dice, ho trovato uno smart contract fighissimo, che fa tutto da solo, mi manda da una parte all'altra, io avevo 1493 Ethereum, e li ho spediti all'indirizzo 0000, come li riprendo? E sono 1493 Ethereum, e purtroppo, per mia natura, io faccio i conti, è una cifra che un po' cambia la vita, e allora dico, ma è possibile che ci siano gente così, ero, terrorizzatissimo, beh, non saranno tutti così babbi, questo è Etherscan, indirizzo 000, l'ho fatto prima, ma lo potete fare anche voi, ovvio, tante sono prove, sono a 0 Ethereum, pagano solo le gas fee, e va bene, si vede che si divertono così, però, il fatto che, guardiamole qui, questo qua, questo qua, quindi qualcuno, 12 giorni fa, ha mandato 350 aereo, così, ha questo indirizzo, questo indirizzo, che vi faccio vedere, poi ce n'è di più, questo ha mandato mezzo Ethereum, sono 750, e quindi io mi interrogo, ma poi ho lasciato stare, ha questo indirizzo 000, quindi se io non metto un blocco, e faccio andare, attualmente, solo di Ethereum, ovviamente stiamo parlando, ha un valore, lo vedete scritto qui, imbarazzante, e di token ancora di più, quindi, se siamo in questa situazione, è chiaro che può succedere di tutto, quindi, io adesso ho pochissimi minuti, io volevo parlarvi di tante cose, della debolezza del codice, avevo preparato delle cose, possiamo vederle insieme, quindi questo è famoso, è un altro, diciamo, è stato famoso, successo il 6 novembre del 2017, che poi condusse parzialmente al fork di Ethereum, non era semplicemente stato inizializzato, quindi qualcuno ha capito che poteva prendere il controllo dello smart contract, e per gioco, per burla, ucciderlo, e andiamo qui, vediamo se l'avevo aperto, da qualche parte, quindi, anyone can kill your contract, questo è abbastanza famoso, quindi Ghost, visto che siamo nella Ghost Edition, l'ha fatto, e ha bloccato, ha bloccato per gioco, lui non voleva tornare indietro, voleva dimostrare che c'era una falla, e poi ha detto, scusate, non riesco a ridarvi i vostri 162 milioni, ma siamo amici lo stesso, e quindi, tutto questo è fantastico, questo è 2017, quindi sono passati 5 anni, sono passati 5 anni, ce ne sono altri, Under Overflow, io volevo farvi vedere, mi dispiace non avere il tempo, casomai lo vediamo dopo, avevo preparato degli esempietti carini, adesso vi faccio vedere, anche per farvi capire, che in realtà possiamo interagire con la blockchain, dalla console di Chrome, quindi questo è uno dei miei modi preferiti, quindi, ma ce lo vediamo dopo, questi sono stati preparati dal mio mentore, che mi ha insegnato tutto il smart contract, quindi torniamo qui, Under Overflow, c'era una bellissima blockchain, che si chiamava Beauty, con la Spank Coin, che è fallita, perché qualcuno aveva capito, che soprattutto con le release superiore al compilatore 7, Wint 8, se è a 255 aggiungo 1, arriva a 0, adesso non vi devo spiegare nulla, se è al denominatore, ottengo un numero enorme, quindi di Beauty token, ce ne erano in 0, trilioni, trilioni, cioè quindi faceva così, il grafico, oddio vale 20 dollari, no, non vale più, perché? Under Overflow, e quindi cose banali, cose che magari nel DOS avevamo risolto 20 anni fa, qui ci sono ancora, not so private, mi piaceva, perché in realtà vi faceva vedere, che anche se io in caponivo, a mettere una variabile privata, dentro uno smart contract, potrebbe funzionare così, in realtà ottengo l'esadecimale, che è questo qua, scusate, una delle due password è home, e l'altra credo che sia al blocco 0, e intanto vi posso dire, che i blocchi sono sempre di 32kbyte, e quindi io li vado a capire prima, quindi home e comming, sono le due variabili, che avevo messo private, nello smart contract, il cui indirizzo vedete qui, e che se volete vi faccio vedere, quindi non c'è nulla di privato, sono ovviamente in orrido ritardo, vi volevo solo fare il pippone, su quando scrivete un codice, se lo andate a scrivere, Natspec è una documentazione, che vi esce gratis in automatico, che almeno uno che lo legge, capisce cosa avete scritto, cosa volevate fare, smart contract non modificabili, ad esempio parity è venuto fuori, perché poteva essere fatto l'upgrade, quindi non fate l'upgrade, non fate cose modificabili, lo testate, la semplicità ovviamente, non 700 righe, magari 50, studiare il caso d'uso, come le start up, è inutile creare il problema, per poi andare a crearci uno smart contract, che lo risolve, basta non scriverlo, i client, abbiamo visto Remix, ma ce ne sono n, si aggiornano, i smart contract sono in una rete, di cui io non ho il controllo, magari non è ancora nato, quello che userà il mio smart contract, quindi le vulnerabilità, io non le conosco, non le posso sapere prima, quindi il ciclo di vita è più o meno quello che fanno le start up, che poi mi fanno il business plan in perdita, poi zero e poi verso la luna, andate a capire se serve, test in locale, ci sono tanti, tanti, consensus ad esempio, volevo farvelo vedere, basta che lo cercate, vi fa l'audit gratis, adesso siccome vi state addormentando, vi dico che un auditor di smart contract, guadagna adesso, guadagna di 200 ai 500 mila dollari l'anno, quindi posso dire, ma non sono il migliore, facciamo 150, e sarei felice, per dire, ma anche voi, quindi per dire tutto questo, allora non richiamare smart contract di altre librerie, periti, torniamo all'esempio di prima, circuit breaker, non ve lo faccio neanche vedere, è un qualcosa che è un codice che potete copiare, e che potete dire, non sono Dio, lo smart contract dopo ho capito che è un errore, lo posso mettere in pausa, così non escono i soliti triliardi, magari esce meno, e poi posso crearne un altro, che lo va a sostituire, dopo aver fatto l'audit che non ho fatto prima, questo è su consensus, basta, direi che siamo a posto, i ringraziamenti vanno al mio mentore, e vanno all'esche, perché vi do l'int che ho dato all'inizio, se è vero che sono così maturo, questo è il mio primo talk in un contesto del genere, e quindi non posso che dirvi grazie. 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 Grazie.